Ci sarebbero rancori e rivalità personali dietro l'omicidio di Antonio Andreani, il pregiudicato 54 anni di Molfetta nel Varese, freddato sabato sera nell'Androne di Casa, in via Martiri di Via Fani. Ieri sera per il delitto è stato fermato Crescenzio Bartoli, bracciante agricolo di 44 anni, incensurato, nipote acquisito della vittima. L'uomo ha confessato al termine di un lungo interrogatorio. Gli attriti fra zio e nipote sarebbero maturati negli ultimi due mesi. Accompagnato in auto dalla moglie e nipote della vittima, Bartoli è andato a casa di Andreani convinto che quest'ultimo avesse bucato le gomme della sua auto. Alla moglie avrebbe nascosto i suoi propositi omicidi. Il boss, chiamato al citofono, era uscito di casa in pigiama e ciabatte. Ci sarebbe stata una discussione breve ma accesa, in seguito alla quale è partito il colpo che ha raggiunto Andreani alla testa. Il 54enne, trasportato al policlinico di Bari e sottoposto ad intervento chirurgico, è morto ieri mattina. Suo nipote è accusato di omicidio premeditato. Ai carabinieri ha detto di essersi procurato la pistola, trovandola per caso in campagna. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dopo le indagini coordinate dal sostituto procuratore di turno della procura di Trani, Giovanni Lucio Vaira. Andreani, legato al mondo dello spaccio di droga e condannato a 20 anni di reclusione, nel 2013 era uscito dal carcere ed aveva lavorato prima come barista, poi come intonachista. Da qualche tempo era senza lavoro e aveva fatto richiesta di essere affidato ai servizi sociali per scontare un residuo di pena di un anno.